Non importa che tu sia di destra o di sinistra se perdi di vista le cose più sane Principalmente rispetto a te stesso se vuoi più rispetto dalle altre persone Non importa la fede che hai Nome Altadella Cognome Minatra Anni 18 Cosa fai nella vita? Studio pedagogia Quante cane ti fai al giorno? Zero Cantante preferito? Claudio Baglioni e canzone preferita all'infinito di Raffa Film preferito? Questo piccolo grande amore Avvocato preferito? Andrea Lobascio Libro preferito? Questo piccolo grande amore è 11 minuti Religione? Gattolica Cristiana Orientamento politico senza dirci chi voti Non ce l'ho Perché non condivido nessuna vita Perché ognuno comunque ha le sue idee E non esiste una netta divisione tra destra e sinistra Speranza di vita sarebbe quanti anni ti dai ancora da vivere? 80 Sogno del cassetto Realizzarmi e raggiungere la felicità Da 1 a 10? 8 Segno zodiacal Giamelli Primo bacio 14 14 Ehi che è rasta Con 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 No lo devi dire Io l'ho detto No 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 Sei l'unico che l'ha detto Per Ma tagli Lo tagli Ok ok lo tagliamo Lo mettiamo alla fine nel backstage Non si sa Ma E comunque si vede tutto però nel backstage Quante lingue conosci? 2 Qualche parola di altre due Lavori o fai l'università? Liceo pedagogico Peggio figura di B Beh oltre a quella di Teri Ce ne sono tante che non mi ricordo Però qualche minuto ho fatto Nel tempo in bagno io ero entrato in un bar La più brutta parolaccia mai detta? Cioè? No lo si dice E bisogna tradurla Altrimenti non si capisce No le hanno tradotte le altre Ah E' bugio Vero E' Teresa l'ha tradotta Allora C'è calcio? Ah no Però mi piace un portiere Daniele Padella Hobby Io ero per un tempo Pegli hobby però Venendo in associazione Con il cuore Yoga Etica Cosa pensi degli holocafi? Io amo questo tema Però sono totalmente contraria Perché va contro lui Perché ami questo tema? Perché mi affascinano le testimonianze Cosa pensi della mafia? Rappresenta una realtà ingiusta ovviamente Cosa pensi degli animali in casa? Beh se nascono già in cattività Cosa pensi è una cosa giusta e bella Però se nascono in natura E' brutto comunque Toglierli dal loro ambiente Per rinchiuderli in una casa Filosofia di vita Oppure è un motto? Sperare sempre e guardare in alto Con lo sguardo di chi cerca il cielo Perché cercare il cielo è già volare Yeah Mai innamorato? Sì Quante volte? Tre Esprimiti in una parola Non lo so Odiosa della matematica Antonella Modello di vita preso come esempio? Un mio professore Perché sei iscritto in un'associazione? Perché impegnarmi e fare esperienze Con gli altri ragazzi Mi fa sentire più viva Come cominceresti? Non è da persona di iscriversi Dicendo quello che hai detto prima Non come hai scritto me Dicendo quello che ho detto prima Cioè? Che mediante esperienze E l'impegno con la società Ti senti più viva Hola hola